Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare con un diodo, giusto per dare un paio di circuito e capire a che cosa può servire. Dunque, per esempio, visto che come ultima cosa abbiamo parlato di diodo Zener, l'uso classico del diodo Zener è farne un riferimento di tensione, perché in pratica la tensione di breakdown in un diodo Zener è molto ben conosciuta, diodo per diodo, e la caratteristica è quasi verticale, quindi la tensione, se il diodo è in breakdown, la tensione sui capi dipende molto poco dalla corrente. E com'è che si fa un riferimento di tensione? Per esempio, in questo modo, io ho qua un, immaginate che io abbia qui una tensione, non nota con estrema precisione, va, e voglia avere su un carico, su una resistenza RL, una tensione fissata. Allora, la cosa più semplice che posso fare è applicare, applicare in parallelo al carico, questo è il carico, un diodo Zener che abbia una tensione di breakdown VBD pari alla tensione che voglia applicare sul carico. Quindi devo avere VBD pari alla tensione che voglio avere sul carico e poi ho bisogno di fare in modo che VA sia maggiore di VBD. A questo punto, per avere una tensione VBD ai capi della resistenza RL, mi basta che il generatore abbia una tensione maggiore di VBD, anche se non è molto precisa, non è nota con precisione, mi basta sapere che sia maggiore di VBD per essere praticamente sicuro che sul carico va esattamente una tensione VBD. Com'è che si vede questo? Beh, si vede abbastanza facilmente, studiamo il circuito. Vi ricordate com'è che si studia? Prima di tutto si fa l'ipotesi, immaginiamo di essere in questa condizione e facciamo l'ipotesi che il diodo sia in breakdown. Se il diodo è in breakdown posso sostituire il diodo con il circuito equivalente che è fatto così. Ho una resistenza RZ e una batteria di valore VBD e poi ho il carico. Allora, la tensione applicata sul carico, a questo punto posso calcolarla, il circuito lineare è piuttosto facile. Come posso fare per calcolarla? Per esempio posso adoperare la sovrapposizione degli effetti, calcolarla prima tenendo acceso VA e VBD spento e poi tenendo acceso VBD e VA spento. Quindi valuto separatamente l'effetto del generatore VA e del generatore VBD e poi sommo i due effetti, applicando ovviamente la sovrapposizione degli effetti che vale se il sistema è lineare. Allora, se uso soltanto VA, cosa ho? Che VL è una partizione di VA, devo fare VA per RZ parallelo RL diviso RS più RZ parallelo RL. Questo è l'effetto di VA. E poi ho l'effetto di VBD che è VBD che moltiplica RZ parallelo RL diviso RS parallelo RL. Ok? Vedete bene che se se RZ è molto più piccolo sia di RS sia di RL, che è la condizione in cui mi trovo perché la RZ è molto piccola essendo la caratteristica del diodezeno è quasi verticale, allora queste espressioni si semplificano e mi viene che la prima parte vale molto, diciamo, ha un valore molto piccolo. Ora facciamo un conto al primo ordine. Qui ho VA RZ parallelo RL, se RZ è molto più piccolo più piccolo di RL fa praticamente RZ. Ok? Quindi viene VA per RZ diviso RS più RZ e qui invece se RZ è molto più piccolo di RS e RL questo fa esattamente VBD. Quindi vedete? E questa roba qui se RZ è molto più piccolo di RS di nuovo fa VBD. Quindi vedete ho che è VBD e la tensione applicata sul carico è praticamente uguale a VBD. Ok? Per essere sicuro di aver fatto bene devo andare a verificare l'ipotesi. Per verificare l'ipotesi per esempio posso calcolare la corrente nel diodo. La corrente nel diodo mi deve venire con questo segno. Prendendo la ID così mi deve venire positiva se sono effettivamente nel terzo tratto della caratteristica. Va bene? E facciamo così per evitare confusione di segno. Facciamo così. Mettiamola nella direzione opposta all'ID. Quindi così. Se no rischiamo di confonderci. Allora io come la faccio a trovare questa corrente ID? Devo fare ID uguale a la tensione che c'è ai capi, cioè la tensione che c'è su questo nodo meno la tensione che c'è su questo nodo quindi VBD meno la tensione che c'è su questo nodo è VL diviso la RZ. Vedete se faccio questa sottrazione prendo l'espressione scritta prima siccome divido per RZ che tende a 0 prendo l'espressione di prima non quella con VBD altrimenti io non ho 0 su 0 e non so come risolverlo. Prendo questa quindi VBD meno VL mi dà questo termine diviso RZ mi dà VA anzi meno VA diviso RS più RZ. Quindi in pratica adesso RZ essendo molto più piccolo di RS posso trascurarlo visto che non mi dà luogo a determinazioni mi viene meno VA su RS. Quindi vedete il segno è negativo e vuol dire che effettivamente è consistente con l'ipotesi che Dio de Sien breakdown. Ho fatto la verifica dell'ipotesi di partenza. che se torno un attimo indietro qui vedete quando sono in zona di breakdown la corrente è negativa ed è quello che ho trovato. Se mi fosse venuta la corrente positiva non sarebbe stato consistente con l'ipotesi di breakdown e avrei dovuto cambiare ipotesi. D'accordo? Quindi vedete quindi a questo punto anche se VA non è per niente preciso basta che il segno di VA sia tale che effettivamente VA sia maggiore di VBD e mi vengo a trovare una tensione applicata sul carico praticamente uguale alla tensione di breakdown. Quindi in base alla tensione che voglio scelgo la tensione di breakdown corrispondente e metto il diodo in parallelo. È una cosa classica che si fa. Un altro uso tipico dei diodi è quello di ottenere dei raddrizzatori. Vi faccio vedere solo un esempio molto molto semplice. Poi dedicheremo un pochino di tempo in più ai raddrizzatori, non abbiamo un po' più di dimestichezza con i circuiti. Vediamo l'addrizzatore a singola semionda. Un raddrizzatore a singola semionda è fatto così. Ho qui un generatore di tensione sinusoidale Vs e quindi questa è una tensione sinusoidale a valore medio nullo e questo è un carico. Supponiamo che a partire da una tensione a valore medio nullo voglio applicare al carico una tensione a valore medio diverso da zero. Quindi ho bisogno di generare una tensione con valore medio non nullo a partire da una tensione a valore medio nullo. Questo è sinusoidale. Per definizione questa operazione, far venire fuori un valore medio a partire da una tensione che non ha un valore medio, si chiama raddrizzamento. Raddrizzare un segnale vuol dire far apparire un valore medio non nullo. Questo com'è che si ottiene? Immaginate che Vs sia fatta così. Allora, il modo più semplice di vederlo è quello di adoperare un modello di grande segnale per il diodo con un RD nulla. Allora, è un modello di grande segnale semplificato, ma giusto per evitare di fare troppi conti a lezione. Poi uno volendo a casa con calma può fare anche il conto completo, non cambia niente. Cosa vuol dire semplificato? Vuol dire che lo uso in questo modo, in pratica per V minore di V gamma I è uguale a 0 e per V uguale a V gamma I è maggiore di 0, a qualunque valore. In pratica è come avere RD, la resistenza del diodo uguale a 0. Quindi invece di avere una retta con una certa pendenza in zona di polarizzazione di retta, mettiamo una retta verticale. Consigliamo un RD talmente piccolo che la retta è verticale. Questo semplifica molto le cose, perché? Che cosa succede? Vedete bene che cosa succede. Se Vs è minore di V gamma, in questo caso, Vs può assumere diversi valori, essendo variabile, allora il diodo è interdetto, quindi è spento, è in polarizzazione inversa. Siamo in questa situazione, a corrente nulla. Infatti si vede bene, io posso prendere la tensione, posso fare questa ipotesi e verificarla. Facciamo un attimo l'ipotesi. Con questa ipotesi devo mettere un circuito aperto. se il diodo è interdetto vuol dire che quindi la corrente nella maglia è 0, se la corrente nella maglia è 0, allora V è uguale a Vs, perché la caduta su RL è nulla. Se V è uguale a Vs, poiché Vs è minore di V gamma, l'ipotesi è verificata. V è minore di V gamma, quindi è giusto che il diodo sia spento. Quindi ipotesi verificata. ok? Se invece Vs è maggiore di V gamma, se Vs è maggiore di V gamma, io posso fare un'altra ipotesi, faccio l'ipotesi che il diodo sia in conduzione. Allora, quando il diodo è in conduzione, il circuito equivalente del diodo è soltanto una batteria di valore V gamma con la resistenza seria, la resistenza in questo caso abbiamo detto 0 per semplificare Vs è uguale a Vs meno V gamma diviso RL. E vedete, la corrente, se Vs è maggiore di V gamma la corrente è positiva, sì. E quindi l'ipotesi è verificata. L'ipotesi, vi ricordo, era che quando Vs è uguale a V gamma, la corrente è positiva, perché dobbiamo essere in questo tratto della caratteristica, quindi la cosa è verificata. Quindi quando questa cosa è verificata, io posso rappresentare quanto è VL, VL è uguale a Vs meno V gamma. Quindi vedete, la VL in questa ipotesi è uguale a Vs meno V gamma. Nell'ipotesi precedente, beh, la VL è questa, non l'abbiamo scritto, ma insomma se non passa corrente, VL è RL per I, quindi VL è nulla. Quindi per esempio se vado a disegnare sullo stesso grafico di prima anche la VL, tratto blu, cosa devo fare? Devo, per discriminare il comportamento, devo tracciare la retta pari a V gamma. Quando Vs è più piccola di V gamma, abbiamo detto che VL è zero, quindi questi sono i tratti in cui Vs tocca V gamma, quando è più piccola la VL è zero, quindi qui è zero, qui di nuovo è zero. Quando invece Vs è più grande di V gamma, quindi i tratti che sono rimasti, da qui vedete che Vs, VL è uguale a Vs meno V gamma e quindi questo vuol dire che devo prendere, per disegnare VL, devo prendere Vs e sottrarci una quantità uguale a V gamma e così via. Allora vedete cosa è successo? Ero partito con una tensione di ingresso sinusoidale a valore medio nulla, nullo, e adesso ho una tensione sul carico che non è più a valore medio nullo, ma è una tensione raddrizzata perché praticamente è sempre positiva ed è, questo è il nome del circuito, si chiama raddrizzatore a singola semionda perché in realtà la tensione sul carico RL è uguale a una semionda della tensione di ingresso, cioè viene ripetuta a una semionda a meno una qualità V gamma e poi sulla seconda semionda è uguale a zero. Insomma c'è un valore medio che è diverso da zero e facilmente si può calcolare. Quindi per esempio questo è il classico uso di un raddrizzatore a singola semionda quando voglio avere una, voglio generare una tensione continua a partire da una tensione alternata. La tensione continua come la ottengo? Beh una volta che ho una tensione che ha una componente continua basta filtrarla per ottenere la componente, basta fare un filtraggio passabasso per ottenere solo la componente continua. Più o meno così funziona. Poi qualche dettaglio in più lo vediamo. Ora mi interessava solo mettere un attimo a fuoco due usi possibili del diodo. Per addrizzare il segnale con un diodo di segnale oppure usando un diodo zener per ottenere un riferimento di tensione. Questi sono gli usi. D'accordo, ci fermiamo un attimo.